They are the Slime! They are the Slime! They are the Slime! Ma prima lanciamo la sigla! SIGLA! Ciao bimbi e ciao bimbe! Benvenuti in questo nuovissimo video! Io sono Alice Domenici, io sono Dario Domenici E io? Barbara Domenici Scusate ma sono dietro, questa volta non mi vedete Ma vi volevo intanto salutare a tutti Vi voglio un sacco di bene E oggi il video lo decideranno E verrà completamente svolto da Dario e Alice Cosa andrete a fare oggi? Uno slime! Sì, a far vedere quello che possiamo usare Loro avranno a disposizione tutto quello che vedete davanti E potranno fare esattamente tutto quello che vogliono Non so cosa succederà Infatti è bello, è proprio questo Dario ha da darvi anche una notizia un po' triste È morto Cicciocorno Fai vedere qual è il sostitutivo adesso E com'è morto? Per colpa di questa nana Spiega Alice cosa è successo Mentre guardavo gli ingredienti L'ho toccato e l'ho buttato in terra L'ho rotto e... L'ho rotto e... L'ho rotto e... Mmmmmmm... Hmmmmmm... Mmmmmmmmmmm... 5 minuti dopo Questo qua è il nuovo... Ecco io ci ho montato addosso però Il nuovo cicciocorno 2.0 Io direi di cominciare visto che adesso lascerò completamente a voi tutte le decisioni possibili io mi ritirerò e farò solo la regista perciò buon divertimento A few moments later Io inizio con questo Io invece volevo iniziare con questo E così apre Te lo apro io Dario E così Metto poco Basta Un po' di più Così? Vabbè io Bisogno? Sì Bisogno Io ora metto questo La bocciolina poi Dario lo rimetti a posto per favore Anch'io volevo mettere questo Io userò questo colorante Bel colore Io invece volevo usare questo qua C'è lì? Voglio mettere la palla Prima di metterla Secara 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 il colore poi volevo mettere anche giusto per provare un edificio questo qua non so se vedrà quell'edificio però spero di sì io mescolo mi metto una boccina mi mescolo ora metto un po di questi questo l'odore buonissimo 15 minutes later e poi metto questo bianco ora metto questo qui pepita di pepite guardate la pepitona ora giro mentre che giro andatevi a scrivere al canale della zia se non l'avete ancora fatto e ad attivare la campanellina e mettere like adesso voglio andare ad attenzare con il cicciocorno 2.0 visto che io l'ho rotto io uso questo il l'ultra dolce io ho un brutto presentimento perché è tipo acqua la mia vera male il problema ovviamente è stato il dentifricio quindi fossi in voi io il dentifricio non lo metterò c'è ma non viene niente cosa posso mettere dentro questo posso pal mo li ve palmo li ve io faccio l'ultima prova vado a mettere dentro un pochino di pepita di pepita speriamo che funzioni dario ma te stai pensando dentro cosa è a caso però si poi c'è sempre la roba asciutto eh a few moments later zia ora io vado a tenere con il cicciocorno 2.0 che l'ha rotto ali eh zia forse l'ho messo troppo ma quanto pepita di pepita hai messo eh non lo so 40.000 zia io ora provo ad addezzare purtroppo lo slam mio di oggi non è venuto però io mi sono divertito tantissimo a farlo dario hai ragione anche il mio slam non è venuto però è stato divertentissimo farli se volete vedere altri video così come questo che abbiamo messo roba a casa nel slime scrivetecelo nei commenti andate a mettere subito un like se 9 spazio di vuote quindi anche il video di oggi può dirsi terminato se il video vi è piaciuto lasciateci tantissimi like vi mandiamo un grande bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao